Vado! Shalik! Hei, hei, e ruudo! Yagabu, 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 yagabu! Ah! Si? No, mamma, ci dovrebbe essere anche un'altra cosa. Lì vicino c'è il frigo da caricare, per favore, insieme. Dai, su! Si? Facciamo tutto un giro unico per aiutare il tuo avvent'altro giorno, o? Ma questa bambina come è stato di dietro! Yagabu, 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 yagabu! Guarda qua! Guarda qua! prendo il frigo quello grande doppio vero si quello che fa anche il ghiaccio si certo meno male allora vediamo cosa e allora vieni qua lo metto sopra che così fa tutta una bella torre se ne prendo il l'uomo se ne prendo il l'uomo se ne prendo il il progetto